Ciao a tutti e bentornati al canale. Insta360 mi ha mandato due videocamere decisamente particolari. Questa qui è la Insta360 One X2 e questa invece è la Insta360 Go 2. Sono due videocamere che sono molto differenti. La prima cosa abbastanza evidente è la dimensione delle due videocamere. Adesso le ho collegate ai rispettivi accessori, il palo per i selfie e il piccolo cavalletto con anche la rotazione che dopo magari andremo a vedere meglio. Allora cosa cambia tra le due videocamere? Iniziamo con la InstaOne X2 che secondo me è la videocamera decisamente più particolare, una videocamera abbastanza unica sul mercato. Questa videocamera è in grado di riprendere a 360 gradi. Molti di voi avranno visto sul mio canale principale e anche su questo canale dei video a 360 gradi, cioè che potete gestire voi. Vi muovete col cursore ed è come essere praticamente con me sul posto e potete guardarvi attorno e interagire in qualche modo. Questi video sono stati realizzati con questo genere di videocamera a 360 gradi. La videocamera a 360 gradi può registrare questo genere di video ma può anche registrare i classici video col vantaggio di poter modificare la ripresa in post produzione. Cosa significa? Che noi abbiamo registrato tutto quello che c'è attorno e successivamente possiamo selezionare quello che ci interessa a noi. Quindi possiamo anche essere più distratti nel momento in cui registriamo il video perché tanto lo andremo a gestire successivamente. A livello di caratteristiche tecniche questa Insta360 ONE X2. Allora, una risoluzione di 5,7k. Questa risoluzione di 5,7k viene intesa ovviamente per lente. Qui abbiamo quindi due lenti avanti e dietro che sommate fanno 5,7k. Adesso tiriamo via il mini treppiede. Vediamo meglio un pochino. Vedete? È una videocamerina davvero piccola. Riguardo questa videocamera potrete vedere il video che ho registrato in Sicilia integralmente con questa videocamera che è veramente molto piccola e quindi ho portato nel mio piccolo bagaglio a mano che le compagnie aeree adesso permettono di portare a bordo ed ho realizzato tutto con questa. Quattro microfoni che vi permettono una registrazione audio a 360 gradi quindi perché sono orientati tutto attorno alla videocamerina. Un piccolo display anteriore dove poter visualizzare tutte le varie informazioni. Il pulsante di avvio registrazione, il pulsante di accensione e poi di fianco abbiamo la porticina usb tap c per la ricarica e il vano batteria dove all'interno c'è questa batteria da 1630 mAh. Questa è la videocamerina. Sotto è presente un filetto per l'appunto per poterla collegare ai vari treppiedi o pali per per i selfie insomma non sono necessari quindi attacchi particolari si può collegare praticamente a qualsiasi cavalletto con attacco filettato oppure potrete collegare tutti gli adattatori che vorrete. Guardiamo invece esternamente la Insta360 Go 2. Come vedete sembra praticamente la confezione degli airpod, sembra la confezione degli auricolari bluetooth. Aprendola troviamo dentro la nostra videocamerina. Questa videocamera veramente secondo me incredibile. Sono entrambe incredibili però questa per il mio gusto sarà la videocamera che utilizzerò probabilmente più frequentemente. La videocamera in realtà è questa qui ed è veramente microscopica guardate com'è è piccolissima davvero piccolissima. Questo è il suo case con l'attacco magnetico quindi la videocamera è magnetica potrete fissarla ovunque e questo case serve sia come controllo remoto quindi come telecomando che come base di ricarica per la videocamera. La videocamera non è una videocamera a 360 gradi ma è una action cam che quindi riprende con un raggio grandangolare molto ampio che poi potrete anche qui in post produzione selezionare e ridimensionare come volete. Sotto è presente l'attacco filettato come per la X2 e la cosa molto intelligente è che hanno inventato queste gambettine che permettono di utilizzare questo case di ricarica telecomando come anche un piccolo treppiedi portatile che potrete sempre avere con voi. Per il resto semplicissimo pulsante di registrazione e pulsante per muoversi nei sottomenu. Parliamo anche brevemente degli accessori che vi vengono forniti insieme alla instago 2. Uno è questa clip che praticamente è una clip per cappellino io l'ho vista sempre usare come clip per cappellino è una specie di clip a molletta insomma personalmente questa clip non è che la reputo molto utile per il mio gusto e per quello che devo fare io. Poi c'è quest'altro supporto decisamente più interessante secondo me con dietro una base adesiva che si può lavare quindi una base adesiva che si riutilizza moltissime volte e diciamo con questo supporto voi potrete appiccicare la videocamera a un vetro a una superficie piatta in modo che lei stia lì e possiate realizzare i vostri timelapse i vostri i vostri video avendo fissato la videocamera a una superficie liscia. Ma l'accessorio che secondo me è veramente degno di nota è questo qui questo medaglione magnetico che si indossa si fa passare dietro alla t-shirt e serve da supporto per la nostra videocamera questo serve ad evitare di indossare una pettorina che la pettorina come sappiamo bene è decisamente scomoda la videocamera resta fissata a questo medaglione e il magnete è fortissimo quindi non va da nessuna parte e devo dire che questa qui è una cosa che a me piace molto è molto immediata potete togliere mettere la videocamera quando volete non va da nessuna parte e non vi dà fastidio quindi questo assolutamente un accessorio che per quanto mi riguarda è promosso ed è veramente intelligentissimo ecco qui tra le mie mani le due videocamere anche se in realtà la instago 2 la videocamera in sé sarebbe questa quindi capite che c'è una notevole differenza di dimensioni ora entriamo nei menu e vediamo cosa offrono queste videocamere all'interno dei menu spero che si veda abbastanza bene allora vedete adesso il video e 360 5,7k potrete anche switchare al classico video 150 gradi quindi video da action cam che potrete gestire in post produzione ma ovviamente se non registrate a 360 gradi la post produzione sarà limitata a quello che avete ripreso quindi potrete regolare il il campo visivo ma non è che potrete riprendere girare la videocamera verso di voi perché ovviamente non avete ripreso a 360 gradi perché riprendere in una modalità piuttosto che l'altra perché a 360 gradi è un file molto pesante molto impegnativo magari in quel momento non vi serve e di conseguenza mi può bastare la classica ripresa grandangolare allora qua possiamo regolare la luminosità del display il blocco dello schermo i led se volete scegliere di tenere accesi o meno la modalità quick capture che praticamente non serve altro che a far sì che possiate riprendere semplicemente schiacciando il pulsante di ripresa senza dover accendere la videocamera quindi voi schiacciare il pulsante di ripresa e la inizia a riprendere altra funzionalità molto interessante sono il collegamento bluetooth agli auricolari agli airpods che io non ho ancora personalmente testato comunque c'è l'audio che potrete selezionare con una messa a fuoco a 360 gradi oppure con la riduzione del vento comandi vocali e poi il menu con le varie impostazioni questo è praticamente quello che troverete scorrendo dall'alto verso il basso lateralmente troverete i vostri file che avete registrato scorrendo da sinistra verso destra da destra verso sinistra invece potrete fare tutte le varie selezioni manuali delle vostre riprese quindi selezionare viaframmi iso eccetera eccetera invece si scorrete dal basso verso l'alto le varie modalità timelapse fotografia quando passate la modalità video poi ci sarà un sottomenu in cui potrete selezionare hdr timelapse time shift bullet time bullet time è la funzione che utilizza con il treppiede e il palo per i selfie per creare un effetto molto particolare che è quello che avete visto nel mio video in sicilia in cui praticamente sembra che un drone mi giri attorno questo è il bullet time è una funzione molto molto carina oltre a questa ci sono tantissime altre funzioni creative che ci sono nell'applicazione è veramente una cosa vastissima bisognerebbe parlarne per ore quindi purtroppo non non possiamo stare qua a vedere tutto dopo comunque andremo a elaborare un file registrato con questa videocamera perché è quella che secondo me richiede più più abilità ecco mentre per la insta go 2 è tutto molto più semplice il software è sempre uguale ma essendo una ripresa grande angolare la gestione è decisamente più semplice teniamo schiacciato e spegniamo e passiamo alla insta go 2 andiamo a vedere il menu della insta go 2 vedete adesso io rimetto la videocamera nel suo case allora mi sono spostato all'interno proprio per potervi mostrare questo display che decisamente molto più essenziale rispetto a quello della x2 che perché non è ovviamente non è lcd a colori ma un display semplicissimo allora col tasto destro voi potete selezionare i vari sottomenu allora vediamo un pochino abbiamo la modalità video modalità foto la modalità pro video la modalità time shift la modalità timelapse hdr video slow motion e le impostazioni video registra un video basico con la stabilizzazione di base ma che non potrete gestire totalmente in post produzione col suo software foto scattate le classiche foto che a me non interessano pro video ecco questa è la modalità con cui vi consiglio di registrare perché vi permette più libertà di gestione del video successivamente una stabilizzazione maggiore quindi una stabilizzazione flow state molto più più precisa e la possibilità la possibilità di selezionare anche il blocco dell'orizzonte timelapse hdr slow motion slow motion fino a 120 frame per secondo e a sinistra il tasto di registrazione durata complessiva della registrazione di questa videocamera sono circa due ore e mezza non inteso come videocamera staccata dal suo case come videocamera staccata dal suo case io credo che potrà riprendere un 20 30 minuti poi la riponete nel case e lei si ricarica per quanto mi riguarda io con un action cam realizzo sempre dei brevi video 2 3 5 minuti dopodiché ripongo la videocamera all'interno del suo case e di conseguenza non mi serve una videocamera che di per sé riprenda due ore e mezza se la tenete comunque all'interno del suo case allora si può riprendere continuativamente per due ore e mezza il menu che vi ho fatto vedere prima è molto semplice in realtà quindi non c'è molto altro da dire e vi dicevo anche che il case funziona anche quindi come comando remoto come telecomando ora andiamo a registrare un breve video con questa videocamera così ci rendiamo conto della qualità dato che un video intero l'ho realizzato con la x2 quindi potete vedere la qualità di quella videocamera nel video in tutte le sue varie funzionalità e in tutte le varie condizioni anche e valutare la qualità di audio per questa videocamera realizzerò adesso qui un piccolo video in cui testeremo un po stabilizzazione il blocco dell'orizzonte e tutto il resto insomma ecco andiamo a fare questo brevissimo footage con questa videocamera così vi do qualche altra informazione allora la videocamera tanto per iniziare registra in 2k quindi per una videocamerina così piccola è un'ottima risoluzione personalmente io lavoro sempre in full hd delle volte in 2k comunque dobbiamo dire che non c'è il 4k ancora su questa mini videocamerina allora adesso sto camminando nel bosco quindi potrete valutare anche la stabilizzazione video di questa videocamera al momento è inserita nel case ma adesso la prendo la scollego dal case ecco questo è il case e camminiamo con la videocamera in mano condizioni di luce vedete sole ombra sulle ombra quindi è anche un buon un buono scenario per testare i colori di questa videocamera luminosità di questa videocamera adesso faccio ruotare il braccio per farvi vedere il blocco dell'orizzonte vedete adesso ho girato il braccio a 180 gradi e dovremmo avere l'orizzonte bloccato la rinserisco nel suo case e torniamo alla baita personalmente sono soddisfattissimo di questa videocamera è veramente veramente una figata tra le due ripeto quella che preferisco ma è una questione di gusti la x2 è una videocamera che con cui vi potete divertire tantissimo perché ha veramente non c'è limite alla creatività con la x2 quindi deve far parte sicuramente del corredo del videomaker ma anche a chi piace condividere storie instagram e vuole essere l'originale sicuramente è una videocamera che bisogna avere la go2 invece l'action camp per eccellenza quindi se fate sport ma anche se siete veramente molto minimalisti nella vostra attrezzatura che vi portate dietro quindi magari fate il trail running questa la videocamera perfetta per voi perché non pesa nulla ha una cosa importantissima che mi sono dimenticato di dirvi è che entrambe le videocamera ovviamente sono impermeabili la x2 è impermeabile fino a 10 metri la go2 è impermeabile fino a 4 metri la x2 vi dicevo ha 4 microfoni la x2 ovviamente essendo così piccola ha solo un microfono quindi la differenza in qualità audio ovviamente sarà superiore quella della x2 io ho applicato sulla x2 e vi consiglio di farlo istantaneamente queste protezioni per le lenti perché sono lenti sferiche sporgenti che si possono rovinare veramente molto facilmente invece la x2 vi viene già fornita con questa piccola protezione per la lente che vi permette di evitare di danneggiarla quindi questa vi viene già fornita corredo ed è assolutamente indispensabile anche questa protezione per evitare di rovinare la videocamera ovviamente il telecomando remoto non funziona solo con la videocamera inserita quindi voi potete prendere la vostra videocamera piazzarla dove volete e comandarla con il telecomando a distanza inoltre è possibile anche far partire il video direttamente dalla videocamera vedete una vibrazione vi avvisa che il video la registrazione è partita e un led lampeggia un altro click lunga vibrazione la videocamera si arresta e la riponete nel suo case allora forse sarebbe stato intelligente inserire anche un bip audio perché così si avete il feedback della vibrazione però sarebbe stato interessante magari poter selezionare anche un bip audio a di là di tutte le caratteristiche tecniche tutto quello che vi posso dire di queste videocamere alla fine la cosa che davvero fondamentale è software queste videocamere soprattutto la go2 sono così piccole così performanti proprio perché il grosso del lavoro viene fatto successivamente in post produzione quindi tutta la stabilizzazione tutto quanto viene gestito successivamente questo perché perché semplifica decisamente il prodotto in sé grazie a questa post produzione successiva ci si può permettere di avere una videocamera davvero così piccolissima altrimenti non sarebbe possibile quindi andiamo a vedere dei file registrati con la x2 perché può sprodurre dei file registrati con la go2 è molto più semplice in quanto non sono a 360 gradi ma il principio di elaborazione di questi file esattamente lo stesso considerazioni sul software il software è veramente molto evoluto è molto bello e molto ben ben fatto e ben concepito sicuramente ci saranno delle migliorie in futuro degli aggiornamenti perché sicuramente ci saranno delle evoluzioni ho notato delle volte qualche problema di connessione col wifi tramite il mio smartphone e questa videocamera non so se sia dovuto al mio smartphone o sia dovuto alla videocamera questo non lo so comunque una volta che vi connettete vi suggerisco di scaricare i file e elaborarli scaricati perché è un lavoro decisamente più rapido secondo me questo è anche il punto di forza di queste videocamere cioè voi siete in viaggio scaricate i vostri file li potete già lavorare alla sera li potete già lavorare in modo da arrivare a casa ed avere già i file pronti da inserire all'interno del montaggio video questa è una cosa che personalmente apprezzo molto l'applicazione dello smartphone è decisamente performante l'applicazione per pc è così così nel senso che è meno intuitiva ha un po meno funzioni anche se in realtà forse le funzioni sono anche le stesse ma sono meno intuitive da trovare e quindi tutto più macchinoso io personalmente il video che ho realizzato in sicilia l'ho gestito tutto tramite lo smartphone ci si mette lì con pazienza e si elaborano tutti i vari file ora vi faccio vedere questo brevissimo tutorial perché non poteva non esserci questa specie di tutorial perché su queste videocamere veramente potremmo stare qui ore e ore e ore a parlarne perché ci sono troppe troppe cose da dire quindi adesso vi faccio vedere a grandi linee come si procede all'elaborazione di un file a 360 gradi allora apro il mio file a 360 gradi come vedrete possiamo muoverci per l'appunto a 360 gradi in tutte le direzioni e vedere tutto quello che abbiamo ripreso e questa è una grandissima figata c'è la la funzione rifila che serve a tagliare la funzione che vi permette di selezionare l'inquadratura 9 9 16 o 16 noni o 1 1 quadrato praticamente multi view è una funzionalità che vabbè adesso non l'attivo perché sarebbe troppo lenta troppo lenta la post produzione non siamo qua per vedere questa funzionalità comunque multi view serve praticamente per riprendere e automaticamente avere una finestrella in cui vi vedete voi in prima persona quindi viene molto utilizzata sulle macchine per esempio immaginatevi una macchina da rally con questa videocamera videocamera che riprende le facce dei piloti e la strada ecco concettualmente quello filtro musica velocità istantanea per bloccare diciamo un frame allora queste sono diciamo le funzionalità generiche di tutta la clip ma al di là di queste che sono funzionalità che gestirete semplicissimamente voi cerchiamo di capire il meccanismo dei fotogramma chiave vedete io adesso se andate sul video sotto nella timeline c'è il più voi selezionate il più ok quello il fotogramma chiave cioè praticamente quello il vostro punto di partenza voi selezionate in quel fotogramma l'inquadratura di partenza e poi andate avanti e in base alla lunghezza del video selezionate un altro fotogramma chiave per cambiare l'inquadratura o anche la velocità del video potete fare veramente di tutto quindi noi adesso mettiamo a 916 che sicuramente sullo smartphone si vede meglio allora fotogramma chiave 1 vedete io l'ho sposto la ripresa su di me aggiorno il fotogramma chiave ok adesso il fotogramma chiave successivo lo clicco e aggiorno il fotogramma chiave davanti a me ok quindi cosa succederà ne facciamo partire il video vedete che automaticamente c'è la rotazione della videocamera fino al momento in cui abbiamo aggiunto noi l'altro fotogramma chiave che va andrà a riprendere nella direzione in cui abbiamo scelto di impostare quest'ultimo fotogramma chiave ne aggiungiamo un altro aggiungiamone un altro in cui cambiamo l'inquadratura inquadratura e mettiamo il pianetino ecco questo famoso pianetino che a molti piace a molti non piace a me così così insomma il pianetino comunque è un effetto molto originale che non c'è su altre videocamere quindi noi adesso andiamo a vedere praticamente partiamo con l'inquadratura su di me l'inquadratura gira frontalmente a me fino ad arrivare al punto in cui abbiamo selezionato il fotogramma chiave e dal fotogramma chiave a quello successivo successivo vedete si crea il pianetino eccolo qui il famoso pianetino vogliamo passare dal pianetino a un'inquadratura più ristretta aggiungiamo un fotogramma chiave e facciamo un angolo stretto quindi angolo stretto sulla mia faccia ad esempio aggiorniamo il fotogramma e il lavoro è fatto semplicissimo semplicissimo io devo devo ammettere che ci ho messo un attimino per per capire il funzionamento quindi è semplicissimo intuitivo ma comunque dovete prenderci un attimino la mano perché è un'applicazione che è veramente vedete adesso è tornato sulla mia faccia è un'applicazione che veramente ha un sacco di funzionalità torniamo sul fotogramma chiave questa è una delle cose secondo me fondamentali da gestire l'inquadratura poi c'è il viewfinder praticamente voi vi muovete e come praticamente avere la videocamera in mano e gestire l'inquadratura proprio grazie agli accelerometri quindi fate partire la registrazione e cambiate l'inquadratura come volete è ancora più più come se foste ancora lì con la videocamera in mano ecco poi c'è il deep track il deep track praticamente vi permette di selezionare il soggetto da tracciare e lui praticamente farà tutti i suoi calcoli e da quel momento continuerà a seguire quel soggetto quindi è una una ripresa che continuerà a seguire il soggetto che avete selezionato voi vabbè in questo momento non lo facciamo aggiorna fotogramma chiave come vi dicevo quando spostate è praticamente decidete di congelare l'immagine su quel punto di arrivo rotazione eccetera eccetera questa allora è proprio un una brevissima infarinatura 5 minuti per farvi vedere brevissimamente questa applicazione che è davvero davvero complessa completissima ed è il punto di forza di queste videocamere quindi questo è un pochino tutto quanto quello che c'è da dire di queste videocamere vanno molto studiate bisogna starci dietro perché sono videocamere che potete usare in modo semplicissimo come potete usare in modo complicatissimo due ma proprio due parole sugli accessori allora questo è il treppiede di insta360 molto solido molto molto carino treppiede fisso piccolino questo è il famoso palo per i selfie quando voi registrate con insta360 one x2 il palo viene cancellato quindi praticamente come se in mano non aveste nulla questo non succede con insta360 però il treppiede più il palo per i selfie vi permettono di avere un vero e proprio cavalletto estendibile oppure se voi applicate lateralmente il palo per i selfie qua potrete usufruire di quella funzione che si definisce bullet time praticamente voi applicate la x2 qui la fate girare sopra di voi e praticamente in slow motion lei farà questa ripresa in stile drone è una idea molto originale sempre una cosa di insta360 veramente molto carina a me è piaciuta molto come funziona questa in conclusione allora le videocamere sono secondo me veramente delle ottime videocamere rispetto alla concorrenza che ho utilizzato fino a ieri praticamente sicuramente questa go 2 andrà a sostituire la concorrenza perché è decisamente più evoluta rispetto a quello che utilizzavo prima la x2 è una cosa a parte è un corredo extra vi permette come vi dicevo di avere delle riprese super creative che non potete avere con nessun'altra videocamera difetti di queste videocamere allora ho avuto qualche problema di connessione col wifi la x2 essendo due lenti sferiche la ripresa è veramente molto distorta col software potete raddrizzare come volete selezionare potrete avere una visuale fisheye oppure lineare però diciamo che le distorsioni comunque in qualche modo si pagano ecco cioè non possiamo pretendere di avere una lente piatta che vi dà una ripresa del tutto naturale modificarla senza pretendere che non ci sia un qualche difetto quindi questo potremmo considerarlo un difetto relativo comunque stiamo parlando sempre secondo me di action cam e non di videocamere professionali durata della batteria per quanto mi riguarda sufficiente qualità video mi sembra davvero ottima un difetto che ad esempio ho notato questa stabilizzazione molto spinta se voi guardate nel mio video registrato in sicilia le nuvole ogni tanto sembra che ondeggino ballino un pochino devo ancora capire bene esattamente questa videocamera l'ho usata per questo video non l'ho ancora studiata totalmente a fondo sembra che questa stabilizzazione delle volte possa dare questo questo effetto un pochino di artefatto come vi dicevo da qualche parte la coperta è sempre corta quindi voi potete stabilizzare digitalmente un video alla perfezione ma se siete molto attenti qualche difetto lo trovate ma questo non è un discorso solo di insta è un discorso di di tutte le videocamere stabilizzate digitalmente l'unica stabilizzazione che non vi lascia alcun effetto collaterale è quella meccanica tramite un gimbal e invece allora parliamo dei prezzi parliamo dei prezzi di queste due videocamere allora la insta go 2 sta a 350 euro mi sembra un prezzo veramente onestissimo per una videocamera di questo genere quindi il prezzo c'è c'è e li vale tutti ne vale anche di più di questi 350 euro dalla vista one x2 sta intorno ai 500 euro non è cara perché stiamo parlando di una videocamera a 360 gradi quindi una doppia videocamera quindi i prezzi di queste due videocamere sono assolutamente onestissimi rapporto qualità prezzo elevatissimo ripeto ho provato anche dirvi il dark side di queste videocamere che ovviamente non possono essere perfette al cento per cento quando abbiamo tanta creatività racchiusa in una cosa così piccola qualche difetto di distorsione digitalizzazione di livello di stabilizzazione digitale qualche difetto è normale che possa venire fuori comunque vi lascio il link in descrizione qui sotto se vi interessano queste due videocamere sicuramente in futuro vedrete molti video registrati con queste videocamere vi dico già che i miei prossimi video che verranno registrati in montagna saranno registrati con questa go2 perché questa go2 è veramente una videocamera che mi fa impazzire niente credo di aver detto tutto fatemi sapere cosa ne pensate di queste videocamere lasciatemi un commento qui sotto e direi che ci possiamo vedere al prossimo video un saluto da luca alla prossima ciao ciao